La legge anticorruzione era l'emergenza del paese, un impegno del governo, Expo, Galan e quant'altro, un impegno, tutti a fare questo tipo di ragionamento, un impegno. C'era una legge anticorruzione pronta ad essere votata, emendamenti pronti, poteva andare in aula, calendarizzata, bloccata, sospesa perché il governo ha annunciato un disegno di legge proprio. E' passato un mese, ieri è passato un mese, non c'è il disegno di legge del governo, non c'è una legge sull'anticorruzione, non si parla più di anticorruzione. Perché? Perché nell'anticorruzione del progetto di legge c'era la nuova penalizzazione del falso in bilancio. Ecco il probabile patto del Nazareno.